lunedì delle rogazioni le rogazioni e il tempo pasquale oggi comincia una serie di tre giorni consacrati alla penitenza questa coincidenza inaspettata sembra a prima vista una specie di anomalia nel tempo pasquale tuttavia quando vi si riflette si giunge a riconoscere che l'istituzione ha un esso intimo con i giorni in cui siamo è vero che il salvatore prima della passione diceva che non si può far digionare gli amici dello sposo mentre lo sposo e con loro le 5 34 ma queste ultime ore che precedono la sua di partita per il cielo non hanno forse qualcosa di melanconico e ieri stesso non ci sentivamo portati naturalmente a pensare alla tristezza rassegnata e contenuta che opprime il cuore della divina madre e quello dei discepoli alla vigilia di perdere colui la cui presenza era per essi la pregustazione delle gioie celesti origine delle rogazioni dobbiamo ora render conto del come ed in quale occasione il ciclo liturgico si è completato in quest'epoca con l'introduzione dei tre giorni durante i quali la santa chiesa ancora raggiante degli splendori della risurrezione sembra volere improvvisamente retrocedere fino al lutto quaresimale lo spirito santo che la dirige in qualunque cosa ha voluto che poco dopo la metà del quinto secolo una semplice chiesa delle galli ed esse principiò a questo rito che si estese poi rapidamente a tutta la cattolicità dalla quale fu ricevuto come un complemento della liturgia pasquale la chiesa di vienna una delle più illustri e delle più antiche della gallia meridionale circa l'anno 470 aveva come vescovo esse mamerto calamità di ogni genere erano venute a portare la desolazione in questa provincia di recente conquistata dai burgondi terremoti incendi fenomeni paurosi agitavano le popolazioni come fossero stati segni della collera divina il santo vescovo che desiderava risollevare il morale del suo popolo esportarlo a dio la cui giustizia aveva bisogno di essere placata prescrisse tre giorni di espiazione durante i quali i fedeli dovevano darsi ad opere di penitenza e andare in processione al canto dei salmi per mettere in pratica questa pia risoluzione furono scelti i tre giorni che precedono l'ascensione senza prevederlo il santo vescovo di vienna gettava così le basi di una istituzione che tutta la chiesa avrebbe poi adottato cominciarono i galli come era giusto santalcino avit che successe quasi immediatamente a san mamerto nella sede di vienna attesta che la pratica delle erogazioni era già consolidata in quella chiesa san cesario darlo al principio del sesto secolo ne parla come di un uso già esteso altrove designando almeno con queste parole tutta quella porzione di galli che allora si trovavano sotto il gioco dei visigoti leggendo i canoni del primo concilio di orleans tenuto nel 511 e che raccoglieva tutte le province che riconoscevano l'autorità di clodoveo si nota chiaramente che essi affermano come l'intera gallia non tardò ad adottarlo i regolamenti del concilio a proposito delle erogazioni danno una chiara idea dell'importanza che si annetteva a questa istituzione non solamente è prescritta l'astinenza dalle carni durante quei tre giorni ma il digiuno è di precetto vi si ordina ugualmente di dispensare dal lavoro le persone di servizio affinché possano prendere parte alle lunghe funzioni che si terranno in quei tre giorni ken 27 nel 567 il concilio di tour sanzionava pure l'obbligo del digiuno durante le erogazioni ken 17 e in quanto all'obbligo dell'astensione dal lavoro durante quei tre giorni si trova anche riconosciuto nei capitolari di carlo magno e di carlo il calvo la processione delle erogazioni il rito principale nelle chiese dei galli durante questi tre giorni consistette fin dall'origine in quelle marce solenni accompagnate da supplichevoli cantici che furono chiamate processioni perché esse sfilano da un luogo all'altro s cesario darl ci dice che quelle che avevano luogo per le erogazioni duravano sei ore intere di modo che quando il clero si sentiva troppo stanco per la lunghezza dei canti le donne cantavano a loro volta per lasciare ai ministri della chiesa il tempo di respirare questo dettaglio che troviamo negli usi delle chiese dei galli in quell'epoca primitiva può aiutarci a pesare l'indiscrezione di quelli che nei tempi moderni hanno insistito per l'abolizione di alcune processioni che occupavano una parte notevole della giornata pensando che una manifestazione così lunga dovesse essere per se stessa considerata come un abuso la partenza della processione delle erogazioni era preceduta dall'imposizione delle ceneri sulla testa di quelli che vi avrebbero preso parte ossia dell'intero popolo perché tutti vi partecipavano aveva poi luogo la spersione dell'acqua benedetta dopo di che il corteo si metteva in cammino la processione era formata dal clero e dal popolo di parecchie chiese secondarie che procedevano sotto la croce di una chiesa principale il clero della quale presiedeva la funzione tutti sacerdoti e laici camminavano a piedi nodi si cantavano le litanie i salmi le antifone e ci si recava a qualche basilica designata per la stazione dove si celebrava il santo sacrificio durante la strada si visitavano le chiese che si incontravano per via cantandovi un'antifona per lodare il mistero odi il santo sotto il cui titolo erano state consacrate grandi esempi tali erano alle origini e tali sono stati per un pezzo i riti osservati durante le erogazioni il monaco di san gallo che ci ha lasciato memorie così preziose su carlo magno ci dice che il grande imperatore in quei giorni si toglieva i calzari come l'ultimo dei fedeli e camminava a piedi nudi seguendo la croce dal suo palazzo fino alla chiesa della stazione nel tredicesimo secolo s elisabetta di ungheria dava pure il medesimo esempio era ben felice durante le erogazioni di confondersi con le povere donne del popolo camminando anch'essa a piedi nudi ricoperta di una rozza veste di lana s carlo borromeo che rinnovò nella chiesa di milano tanti usi dell'antichità non trascurò certo quello delle erogazioni mediante la sua cure e di suoi esempi rianimò nel popolo l'antico gelo per una pratica così santa esigendo dai suoi diocesani il digiuno durante tre giorni digiuno che egli stesso osservava a pane ed acqua la processione alla quale tutto il clero della città era tenuto ad assistere che cominciava con l'imposizione delle ceneri partiva dal duomo allo spuntar del giorno e non vi rientrava che alle tre o alle quattro del pomeriggio avendo visitato il lunedì 13 chiese 9 il martedì e 11 il mercoledì in una di esse l'arcivescovo celebrava il santo sacrificio e indirizzava la parola al suo popolo 6 se si paragona lo gelo dei nostri padri per la santificazione di queste tre giornate con la non curanza che oggi specialmente nelle città accompagna la celebrazione delle erogazioni non potremo fare a meno di riconoscere anche qui uno dei segni dell'indebolimento del senso cristiano nella società moderna eppure quanto importanti sono i fini che si propone la santa chiesa in queste processioni alle quali dovrebbero prendere parte tutti i fedeli che hanno la possibilità di farlo e che invece di consacrare quel tempo al servizio di dio per mezzo delle opere di vera pietà cattolica lo passano in devozioni private che non potranno attirare su di essi le stesse grazie né portare alla comunità cristiana i medesimi aiuti di edificazione le erogazioni nella chiesa d'occidente le erogazioni dalla gallia si estesero rapidamente in tutta la chiesa d'occidente nel sette secolo erano già stabilite nella spagna e non tardarono poi ad introdursi in inghilterra e più tardi nelle nuove chiese della germania men mano che esse venivano fondate la stessa roma l'adottò nel sci sotto il pontificato di esse leone terzo fu poco tempo dopo che le chiese dei galli avendo rinunciato alla liturgia gallicana per prendere quella di roma ammisero nei loro usi la processione di esse marco ma si ebbe questa differenza che a roma si conservò alla processione del 25 aprile il nome di litania maggiore essi chiamarono litanie minori quelle delle erogazioni mentre in francia queste ultime furono designate con l'appellativo di litanie maggiori riservando il nome di minori per la litania di esse marco ma la chiesa romana senza disapprovare la devozione di quelle dei galli che avevano creduto bene dover introdurre nel tempo pasquale tre giorni di osservanza quaresimale non adottò tale rigore le ripugnava di rattristare col digiuno la lieta quarantena che gesù risorto aveva accordato anche ai suoi discepoli si limitò dunque a prescrivere solo l'astinenza dalle carni durante questi tre giorni pratica che fu mantenuta nel corso dei secoli fino al momento in cui per l'indebolimento generale dei costumi cristiani della nostra epoca fu costretta a modificare l'antica disciplina su questo punto la chiesa di milano che come abbiamo visto conserva con tanta severità l'istituzione delle erogazioni la trasportata a lunedì martedì e mercoledì che seguono la domenica nell'ottava dell'ascensione ossia dopo i 40 giorni consacrati a celebrare la risurrezione bisogna dunque per restare in questo vero equilibrio da cui la chiesa romana mai si distacca valutare le erogazioni come una santa istituzione che viene a temperare le nostre gioie pasquali ma non ad annullarle il colore viola adoperato per la processione e per la messa della stazione non ha più lo scopo di indicarci ancora la dipartita dello sposo cant 8 ma ci avverte che la separazione è vicina e l'astinenza che un tempo era imposta in questi tre giorni pur non essendo accompagnata dal digiuno era già una manifestazione anticipata del dolore della chiesa conscia che la presenza del redentore le sarebbe stata presto rapita oggi il diritto ecclesiastico non menziona più il lunedì martedì e mercoledì delle erogazioni tra quei giorni in cui la legge dell'astinenza obbliga ancora i fedeli è ben triste che l'indebolimento del sentimento cristiano nelle generazioni del tempo nostro e le domande di dispense sempre più numerose abbiano reso necessario questo abbandono dell'antica disciplina è un'espiazione di meno un'intercessione di meno un soccorso di meno in un secolo già così povero dei mezzi per i quali la vita cristiana si conserva diviene indulgente il cielo si ottengono grazie di salvezza possano i veri fedeli concludere che l'assistenza alle processioni di questi tre giorni è divenuta più opportuna che mai e che è urgente unendosi alla preghiera liturgica di compensare in questo modo l'abolizione di una legge salutare che datava da così lungo tempo e che nelle sue esigenze pesava tanto leggermente sulla nostra mollezza possa una si venerata istituzione sanzionata dalle leggi della chiesa e dalla pratica di tanti secoli restare sempre in vigore in quella francia che col suo esempio ha imposto a tutto il mondo cattolico la solennità delle erogazioni secondo l'attuale disciplina della chiesa le processioni per le erogazioni la cui intenzione è d'implorare la misericordia di dio offeso per i peccati degli uomini ed ottenere la protezione celeste sui beni della terra sono accompagnate dal canto delle litanie dei santi e completate da una messa speciale che si celebra sia nella chiesa della stazione sia nella chiesa stessa da dove la processione è partita almeno che non debba fermarsi in qualche altro santuario le litanie dei santi non si stimeranno mai troppo le litanie dei santi per il potere e l'efficacia che hanno la chiesa via sempre ricorso in tutte le grandi occasioni come ad un mezzo atto a rendersi propizio l'aiuto di dio rivolgendosi a tutta la corte celeste se non potessimo prendere parte alle processioni delle erogazioni che si recitino almeno queste litanie in unione con la chiesa si avrà parte nei benefici di una istituzione così santa e si contribuirà ad ottenere le grazie che la cristianità in questi tre giorni sollecita da tutti i luoghi avremo anche compiuto atto di vero cattolico inseriamo qui la messa delle erogazioni che è uguale per i tre giorni tutto vi parla della necessità e del potere della preghiera la chiesa riveste il colore quaresimale che ne esprime le intenzioni espiatrici ma tutto in lei emana la fiducia e la speranza di essere esaudita si sente che ella si appoggia sull'amore del suo sposo risorto messa delle erogazioni epistola jack 5 16 20 carissimi confessate l'uno all'altro i vostri peccati e pregate l'uno per l'altro per essere salvati perché molto può l'assidua preghiera del giusto elia era un uomo soggetto alle miserie come noi eppure avendo pregato ardentemente perché non piovesse sopra la terra non piove per tre anni e sei mesi poi di nuovo prego e il cielo donò la pioggia e la terra diede il suo frutto fratelli miei se alcuno di voi si allontana dalla verità e uno lo converte sappia che chi richiama un peccatore dal suo errore salverà l'anima di lui e cancellerà una moltitudine di peccati il fine delle erogazioni è ancora dall'apostolo s giacomo il minore che la santa chiesa prende oggi l'epistola e non sapremo abbastanza ammirare quanto vengano a proposito le parole dell'ispirato scrittore uno dei fini dell'istituzione delle erogazioni è di ottenere dalla bontà di dio la temperatura favorevole ai frutti della terra e san giacomo ci mostra con l'esempio di elia che la preghiera può rendere il cielo sereno o farne discendere una pioggia fecondatrice imitiamo la fede del profeta e raccomandiamo al signore i raccolti che hanno ancora tanto bisogno della sua bontà per arrivare a maturazione e per sfuggire ai flagelli che potrebbero riversarsi su di essi altro scopo delle erogazioni è di ottenere la remissione dei peccati se noi preghiamo con fervore per i nostri fratelli traviati otterremo il loro favore particolare misericordia noi forse non conosceremo mai in questo mondo coloro che la nostra preghiera unita a quella della santa chiesa avrà salvato sulla via del peccato ma l'apostolo ci insegna che la nostra carità riceverà la più preziosa delle ricompense ossia l'effusione della misericordia di dio su noi stessi vangelo le 11 s 13 in quel tempo disse gesù ai suoi discepoli se uno di voi ha un amico e vada lui a mezzanotte a dirgli amico prestami tre pani perché un amico mio è arrivato di viaggio in casa mia e non ho che porgli davanti e quello di dentro rispondendo dica non mi dar noia l'uscio è già chiuso ed i miei figlioli sono con me a letto e non posso levarmi a darteli ma se l'altro seguiterà a picchiare vi assicuro che anche se non si levasse a darglieli perché suo amico tuttavia almeno per togliersi l'importunità di lui si leverà a dargliene quante ne ha bisogno ed io vi dico chiedete e vi sarà dato cercate e troverete picchiate e vi sarà aperto infatti colui che chiede riceve colui che cerca trova e a colui che picchia sarà aperto e se alcuno tra di voi domanda al padre un pane gli darà forse un sasso e se un pesce gli darà invece un serpente e se chiede un uovo gli darà uno scorpione se voi dunque pur essendo cattivi sapete dare cose buone ai vostri figlioli quanto più il vostro padre del cielo darà sicuramente lo spirito buono a tutti coloro che glielo domandano potenza della preghiera vi è niente di più espressivo nei vangeli per esprimere l'infinita potenza della preghiera che queste parole del salvatore la santa chiesa facendocele leggere oggi ci mostra senza dubbio a sufficienza l'importanza delle erogazioni poiché in questi giorni ella ci rivela la virtù dell'intercessione che trionfa anche del rifiuto stesso di dio la scelta della lettura delle sacre scritture nella liturgia è un insegnamento permanente e sempre dato a proposito abbiamo dovuto riconoscerlo fin qui in questi tre giorni in cui si tratta di placare il cielo già offeso niente era più necessario che di far ben capire ai cristiani il potere che esercita su dio stesso l'insistenza nella preghiera le litanie che sono state cantate nel corso della processione ci offrono un modello di questa santa ostinazione nella domanda non abbiamo cessato di ripetere signore abbi pietà liberaci signore te ne supplichiamo esaudiscici in questo momento si prepara la mediazione dell'agnello pasquale offerto sull'altare e tra pochi istanti unirà la sua intercessione sempre efficace ai nostri deboli voti muniti di un tale pegno noi potremo ritirarci sicuri di non aver pregato in vano prendiamo dunque anche la risoluzione di non tenerci più lontani dalla chiesa nelle sue cerimonie e di preferire sempre la preghiera fatta insieme a lei a qualunque altra che noi potremmo offrire a dio in particolare e ciò in tutti i giorni in cui ella vorrà invitarci a prender parte ai doveri impetrativi che nel nostro interesse rende al suo celeste sposo